Oh ma che cazzo Oh ma che Bella a tutti ragazzi come state? Tutto da paura? Spero di sì Perché stiamo facendo un gioco horror Dove sono? In un hotel? Ok Che succede? Ma sta crollando l'edificio? Come mi muovo? Oh cazzo non sono abituato a giocare sulla tastiera Tattò interazione Il click non va bene Ah si è aperta da sola? No cos'è? Dovevo schiacciare qui? Vabbè lì non si è aperta Vabbè ma magari usciamo domani Chiudi sta porta dai andiamo Dov'è? Chiudi 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 Dormi è tardi No eh Vero? Vabbè qui c'è un po' di luce Topic up Ok devo trovare altri 5 teddies Eh al buio faccio un po' fatica però Diccio una lucina Vero? Ah Eto interazione Cosa ho premuto prima? La F No e to interazione Ah con la F Apro i fiammiferi Ho fiammiferi infiniti? Sì ma se non trovo un interruttore Vacca bestia che funzioni Come faccio ad accendere sta cazzo di luce? Io spero che i fiammiferi siano infiniti Ola Ecco Adesso sì che prima era no Va Va Che cazzo è successo qui? Ma dove cazzo sono? Al circo Vabbè dovrò trovare il codice Ok dai sto iniziando a capire un po' come funziona Magari al posto della E la barra spaziatrice era più comoda Qui non posso interagire No Non la posso prendere Questo Dice qualcosa Vabbè Io lascio le porte aperte Anche che così so dove sono entrato Qui forse con la radio perché fa rumore No non me la fa Ma mi sa che il suono arriva da qua Vaffanculo Vaffanculo Mamma mia E ora spero che non devo riniziare da capo Non sono morto male vero? No perché tutto come era prima Ora posso entrare? No Ho riattivato la corrente E ho guardato quasi ovunque Credo perché sicuramente c'è qualcosa che non ho guardato Eh no Non si fa così eh Vabbè vuoi le luci spente Dove è andato il nostro amico? E' rotto tu questo? Era già rotto prima Vediamo se Fammi controllare qua Che l'ho guardato venti volte Ma lì non devo neanche inserire io Cioè credo che lo vedo in un documento E perché Se no uscirebbe fuori Cioè Non ho capito cosa fa con la barra spaziatrice Ogni inchino Non è che dovrei spegnere le luci? No eh Pessima idea Non sono stato io Io ero Faccio il giro di qua Ma questo almeno è casa mia? Andiamo a riattivare la corrente Vero che non sei qui no? Eh Non ti piace proprio la luce vero? Dove me l'hai nascosto? Dai ma che scherzi sono? Io da piccolo nascondevo il telecomando Ma non staccavo la corrente a tutta la casa Cazzo Qua adesso ho finito i fiammiferi Oh là Basta eh Qui non posso ancora andarci Ma quella porta c'era prima? Posso armarmi? Oh ma vaffanculo Oh ma vaffanculo Quanto meno adesso so dove andare Shift Che è questo Per correre Devo attivare i tre computer e devo Oh cazzo No Attiviamo sti tre computer Corri Meno male che è buggato Vai via vai via coglione Ho sbagliato strada Dai Ma se faccio piano Non mi dovresti né sentire né vedere Vabbè come faccio I corridoi questi sono Ce l'ho dietro Era di ma cazzo Luce Via Ho sbagliato già strada Vabbè affanculo Ma io non capisco se lui mi può vedere o no Perché ho qualche dubbio adesso No è impossibile È impossibile Me lo ritrovo davanti O non devo correre Devo correre Solo se lo vedo lo sento Ah ma questo se ne va in giro Senza una cosa logica Quindi lui fa fatica a uscire dalle porte Ma forse me l'ha salvato quel computer Ma voglio provare Oh cazzo merda Ma ti sembra No raga non si può fare È un casino Quello è una Oh Via Come cazzo si fa Non so se ce l'ho Dai ma come facevo a passare Io provo a fare Allora Se non me li conta che Mi sa che è successo qualcosa Ho perso troppe volte Sono tornato Che cazzo è successo Che cazzo è successo Qui non è cambiato assolutamente niente Aspetta ma qua Non c'era mai stata la porta C'è una sedia Che cazzo stai facendo Che cazzo stai facendo Ma cos'è che ho Adesso anche con le luci Vedo poco E questo Forse adesso posso andare in quella porta Che non si apriva E non si apre Devo fare qualcosa E non è accendere la luce Dove cazzo sono finito? Questo è un pazzo furioso Aspetta Esti ganci Ha di nuovo tolto la corrente Cazzo No È una motosega Ti diverti? Dove cazzo sei? Ma che cazzo? Cazzo Oh Maggi Vabbè Dove vado? Dove vado? Dove sono soprattutto? Ste sedia Mi mettono un'ansia Mi sembra sempre qualcuno E poi invece non è un cazzo Non c'ho più fiammiferi Cazzo Io me ne vado Ciao Che figata Ma che figata cazzo Era il primo Era il primo Opla Dai Ok No Non cadermi adesso Ok Ce la sto facendo Passa la volta Come si risponde? Opla No No Piano piano Porca miseria Salta Oh Non cadermi mica Ok Minchiai adesso Sono un maestro No È impossibile Lo finiamo sto cazzo Di gioco Non ha saltato Oh Bella No 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 Allora cazzo È un pomeriggio Che ci sto dietro Ce l'ho fatta? Forse Ok E là Sì Oh Respiriamo Ce l'ho fatta Cazzo E ora Sì E ora dove vado? Ah e ora si è completata la strada Si sarà completata anche Di là Spero di non cadere E riniziare tutto da capo Perché non ce la faccio Un'altra volta Non cadere Dai Ok Ormai sono un maestro Con ste scale Sì ma poi tutto il gioco così Deve essere Mi ha già stufato Già Porco giù Da due ore ci sono stato dietro A sto cazzo Di livello Figa Bella a tutti ragazzi Questo episodio Finisce qui Spero che questo gioco Vi abbia fatto divertire Che questo episodio Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Se volete vedere Altri episodi Di questo tipo Lasciate un like Per supportare il canale Lasciate un like E niente Se non l'hai fatto Lascia un like Figa 71 Sono morto 92 volte Se non sei iscritto Iscriviti al canale Ciao